Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo qui, sono i Logitech e questa probabilmente è l'ultima missione L'ultimo mio video di gameplay di Medal of Honor, dopodiché abbiamo finito il gioco E purtroppo non ho preso le... queste tre medaglie che... boh, non mi ricordo Questa è quella che vinci quando finisci il gioco difficile Questo è presso Brest, l'operazione Torcia, Caramatic King Tiger, Vierville, U-Boat Non me li ricordo, dovrei cercare in internet forse... Vabbè, lasciamo perdere e carichiamo subito l'ultima missione Dovremmo andare dentro questa grandissima struttura nemica e... Ma sta andando lì indietro? Ah sì Ah no, stiamo... no, non capisco, stiamo entrando Ok Qua lo so che c'è un nemico... anzi due Fuori, uno subito Là... ah, l'ho solo ferito Fa un culo Perfetto, via, 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 via Dai, 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 dai... non devo perdere troppi compagni perché sennò siamo nella merda Muori... 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 Vediamo se riesco a salvarne un bel po' Cazzo, è scappato... no, no, no Fa un culo... muori... eh, mi hanno ammazzato uno... cazzo, uno... volevo... volevo farla senza perdere neanche uno... Sì, l'ho ammazzato... anche questo l'ho ammazzato... questo l'ho ammazzato... basta... Quanti ce n'è ancora? Perfetto, cazzo... ho preso solo un nemico... eh, un compagno... penso che sia il mio record personale Non dirmi che è stato ucciso un altro dei miei Ok, il braccetto Ragazzi, ho perso un compagno... non vorrei che per vincere una medaglia non dovrei... non... dovrei... finire questa parte qui senza perdere neanche un compagno... non me lo ricordo Devo informarmi, ripeto, non mi ricordo purtroppo... so che... cazzo... All'epoca, quando ho finito il gioco che ero più giovane... avevo preso tutte le medaglie... ma adesso non... non me lo ricordo... sono passati tanti anni... non me lo ricordo... Allora, ok, questi sono fatti fuori, perfetto... eh, ho perso anche un po' di energia... eh... Andiamo a ricaricarci, qui c'è una bottiglietta... voilà... perfect... Allora... un attimo... Qui ce n'è uno... no... dietro di qua forse... Sì... perfetto... E... Ora si comincia... Chi è che spara? Allora, un attimo, un attimo... Qui c'è qualcuno... no... Ui, ma che cazzo... ma dai... Vaffanculo... ma... merde... Cioè, sto... sto morendo, ragazzi... Ce l'ho fatta... Mi tengo il Tommy perché è più veloce a sparare... Allora, un attimo... Ah, ok... questi... quelli che stavano segando i miei compagni qua... Qui posso entrare... sì... sì... perfetto... Apriamo la porticina... Mi manderanno ben due compagni adesso, se non erro... Allora, pal... Guardiamo questa area e guardiamo le POWs... Ho sentito un po' più persone per il tuo modo per aiutare... Andate e iniziare i miei chargersi... Siamo tornati qui quando sei finito! Allora, ragazzi, guardiamo qui! 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 Ah ma non si rompono questi Affanculo Spregata munizioni Ok voi state sempre dietro di me Mi raccomando Che qui ci penso io Allora Non stare lì Che ti ammazzano Pirla Allora Posso chiudere lì Qui dentro no Ok allora Di qua Voi state sempre lì Mi raccomando Non muovetevi Che qua ci penso io Ci penso io Sì 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 Allora ripuliamo L'area Tu le granate e non le lanci Questo ha un STG E una granata Via Muori Ce n'è uno Dove cazzo è Dove cazzo è Ah Toh muori Ehm Ecco qua Opla E uno Torniamo indietro No non dirmi che sono morti i miei compagni Ho sentito un rumore Tipico di quando uno perde l'arma e muore E può essere solo loro E può essere solo loro Guarda ci scommetto Sono troppo scarsi Cioè non siamo in un cazzo Muoiono sempre in questa missione Vediamo Vediamo Boh non ci sono più Vabbè E andiamo Forte quanto vuoi Allora i miei compagni Seconda parte Questa forse sarà una missione un po' più lunghetta Penso di superare i 20 minuti Ehm Dove cazzo Vaffanculo Vaffanculo anche te No devo caricarlo Ok Posso dare calci con questo? No Niente Eeeh Parapapapam Vabbè Finito il tempo del Del pompa Un attimo Non mi capisco Sopra E sopra Mi sembra che non ci sia niente Forse qualche nemico Se Fuori uno E fuori due No E vabbè Ma Non mi ricordo mai Come si fanno scendere Ste cazzo di scale Eeeh Epico Epico I know what you need Questa Granate Ce ne ho Munizioni Allora Se io faccio così Un attimo Ok Scendo così Va bene Perfetto Sbagliavo pulsante E quindi Devo andare giù Di qua Andiamo giù Facciamo un saltino Che tanto Giusto per ammazzare Questo coglione Andiamo avanti Qua ce n'è Un bel po' Dappertutto Il capitano Che caga nel cesso Senza chiudere la porta Ma dai Cioè Chiudete la porta Cioè Mettetene una Più che l'altra Non c'era neanche Ok Siamo di qua Cazzo spari Ecco Finito le munizioni Pirla Muori La parte più figa Di questa missione È quando Liberiamo il gas Muoiono tutti E dobbiamo Fuggire Mentre Tutta questa struttura Esplode Sono noioso Lo so Ma difficile Ragazzi Quanto Bestemmiato Soprattutto Proprio alla fine Quando esci da questa struttura Ci sono dei cecchini Cioè Assurdo Morivo Morivo Avevo finito la missione Tipo con venti di energia E non Non trovavo energia più Praticamente E rifarla tutta Per salvare un po' Di Quei dieci venti in più Mi rompeva le palle L'ho rifatta 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 Quella parte Cento volte Finché In qualche modo Sono riuscito A eludere i cecchini Ammazzarli E ho finito la missione Tipo con cinque di energia Madonna Comunque vedrete anche voi Vabbè Ha facile Ma vedrete Che vuol dire Lo vedo Nello spiraglio Tipo Se non erro Una cosa del genere Lo vedo nel buco Lo vedo Nell'angolo Eh sì Perché io conosco il tedesco Eindringling È sicuramente la line È sicuramente la line Allora Fai A tutti i uomini Fuoco Sì Sì Cazzo vuoi fare Sì Muori Allora Qui dovete andare dopo Dunque Dunque Merda ovunque E d'altronde Merda Fin sulle sponde Dai Muori Questa missione La faccio un rapid Rapid mode on Qua posso entrare? No è chiuso Perfetto Maschera Anti-gads E adesso andiamo giù E li secchiamo tutti Col gazz Erist miner No non sono tuo Coglione Tu sei mio Via 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 Giù Fine seconda parte Dai Terza parte Quarta parte E poi abbiamo finito Siamo già a 13 minuti Uh guardate che roba Anche su Call of Duty Mi sembra che c'è una missione Non mi ricordo Tipo Black Ops In cui C'è una parte che scappia Con quella tuta Antiradiazione Non mi ricordo adesso Copiato da questo gioco Sì muori muori Guarda che roba Certi sono resistenti Certi muoiono con Tre colpi In un piede Certi Con mezzo caricatore In testa Uh no 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 Allora Un attimo eh Sei scappato Un attimo Il respiro Si fa pesante Ah ok Dopoli Lì è dove devo distruggere Il gas Ma non lo voglio Prima voglio pulire Tutta questa zona Ah adesso posso anche farlo Basta che spari Un po' a caso Tata Tata Ammazzi qualcuno E' buono Ecco vedi Morti tutti Morti tutti Questo scienziato è morto Qui non c'è niente Facciamo uscire Ancora più gas Apertutto Perfetto Ehm Cosa che devo fare? Ah gli esplosivi Dove cazzo che devo mettere Non mi ricordo Sentite come ansima Forse ho dimenticato Di qui Di metterli No un attimo eh Mi sono perso Un secondo Aspetta Allora E la bussola mi indica Di qua Qui vicino Eh ci sono Ah ah ok Stupido Adesso Fuggire Fuggire Abbiamo 30 secondi Via 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 Dovevo raggiungere assolutamente L'ascensore Che dovrebbe essere di qua Spero di non sbagliare strada Vai 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 Corri 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 Ascensore 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 Eccomi qui Eccomi qui Sali 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 Le fiamme ci seguiranno E dobbiamo essere veloci Perché sennò Si crepa Si dai Che cazzo vuoi fare Tu mori Vuoi morire tutti Ok Devo andarti qua Perfetto Allora Se sbagli strada Sei un uomo morto Non ho tempo Per ucciderli tutti Qui si Qualcuno Ok così Qui Questi qui Madonna Quanti cazzo sono Eh non ho tempo Ciao Non ho tempo Oddio ho sbagliato strada No 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 un attimo Di qua Si si giusto Stavo per combinare la cappellata Fammi passare Ah cazzo Vaffanculo Fatemi passare Di qua Merda 42 di energia Ne ho perso Oddio No Troppo lento Porca miseria Che cazzo Lo sapevo io Lo sapevo che morivo Facile anche E il problema È che Devo ricaricare E perdo Quell'attimo Per uccidere i nemici Per farmi passare Disturbato Allora Dai Avanti di qua Avanti di qua Ok ricarica Vabbè tu Te morirai là Qui facciamo esposare Tutto così Qui ricarica velocemente Che ne arrivano un bel po' Allora 1,2,3,4,5 Fammi passare Giù di qua Perfetto Di qua Ok Qui non c'è niente Questo qua deve morire Questo deve morire Questi devono morire Di qua No Ho diritto Di qua Di qua Di qua Veloce Non morire Come prima Non morire Come prima Perfetto Di qua Ok Apri la porta Apri la porta Ricarica Esci Perfetto 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 È finita È finita ragazzi Gli ultimi 50 metri Alla salvezza Perfetto Perfetto Ok È fatta È fatta È fatta Allora Un attimo Un attimo No 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 Allora Dove seccare i cecchini Se no muoio come l'altra volta Allora Un attimo Uno so che è qua Ecco Vedi Vedi Le cappellate Ah ma ci sono i miei amici Dai Fatemi salire Fatemi salire Fatemi salire Cover me What's up Ragazzi Abbiamo finito Medal of Honor Fine Ok La fine Fa cagare Perché Però Vabbè L'avventura Che ci ha portato Fino a qui Comunque È il viaggio Che ci ha formati Bene Io Ho finito qui Questo mio Primo gameplay Ho finito il mio Primo gioco Di questa serie Vedrò Ora cosa fare Se inizia un nuovo gioco Io vi saluto Vi lascio Ai credits E alla musica epica Grazie a tutti Un abbraccio Il logitech Ciao Ciao Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.